Caspoli, 1841. Da Giuseppe Adiodati, il 28 ottobre, nasce la sua decima figlia, Michele di Cesare. Lei è bracciante, come il marito, Domenico Antonio. Nasce in un tugurio, povera, come sarà la sua vita. Ma in essa Michele si ribellerà e, come vedremo, lei si unirà al movimento di brigantaggio del Meridione, un movimento di rivolta contro il nuovo governo italiano, che prenderà nei libri il nome di La questione meridionale. Vedremo come questa figura, povera, senza nessuna risorsa, riuscirà a diventare un simbolo della comunità. Un simbolo apprezzato, da alcuni odiato, da alcuni non conosciuto. E vedremo come esso, appunto, tutt'oggi viene ricordato in tutto il Meridione. Andiamo ad analizzare la mentalità, andiamo a interrogare le persone del luogo, di Caspo e di Vignano, la comunità che appunto ha liato i Natali. Iniziamo il nostro racconto, con Storizzano, dove ci troviamo. Vignano-Montelungo è un comune di circa 3.000 abitanti nella campana settentrionale, in provincia di Caserta. In essa, oltre al nostro storico monimo, troviamo tre principali località, Campo Zillone, Moscuso e Caspo, ovviamente. La zona di Vignano è sempre stata strategica per i vari popoli che li sono susseguiti in passato, tra romani e sanniti, sul confine milenario che fece per millenni il confine tra Stato Pontificio e il Regno di Napoli. Sorge sulla via romana Casilina, la strada che collega Napoli a Roma, ed è per questo che Vignano ebbe sempre un'importanza strategica militare. A testimoniare ciò, vi è il castello dell'Ettrofia Mosca e del più recente Sacro Militare, a testimoniare la battaglia di Montelungo e la seconda guerra mondiale. La zona di Vignano fu sotto Napoli per più di un millennio e per quasi tutta la vita di Michelina, almeno fino al 1860, quando la storia cambiò le sorti di tutta la zona. Gaibaldi e Mille sbarcarono in Sicilia nel 1860 e la lista sarebbe condotta all'annessione del Meridione. Gli dittori piemontesi sapevano che una buona riuscita della missione necessitava non solo dell'appoggio della nobiltà, ma anche del popolo. Perciò il 2 giugno dello stesso anno Gaibaldi promulgò un decreto dove promise tra i poveri, la spazizione terriera e il libero utilizzo di quelli demaniali. Queste promesse però non vennero mai mantenute. Ciò causò insurrezioni, rivolte e movimenti armati di contadini che andavano a impinguare le file dei soldi borbonici che combatterono anche dopo la caduta di Napoli nel settembre dello stesso anno. In tutto il Meridione si starò il caos e a massacri civili e appesaglie secondi soldati regolari e bande armate non regolari che formavano i primi movimenti di privantaggio. La coppia reale borbonica continuò a combattere la Gaeta finché non fu costretta a esilio alla Santa Sede. La regina Maria Sofia divenne simbolo di lotta, di amore per la patria e per il popolo napoletano. Una regina soldato. A ottobre si tenero i suffragi, dal valore praticamente nullo in quanto tenuti solo nei palazzi presidori della città. Al suffragio il popolo non venne invitato a votare ma adesso sono i nobili che pur di mantenere il potere in mano passavano alla casa Bauda. Coloro che mantenero la fedeltà e borbone spesso finirono per supportare le cause brigadiste di ultima combatte fino alla fine. L'iposis della mancanza di consenso popolare all'azione Sabauda fu decretata da Torino con una circolare di Cassoli dell'agosto 1861 quest'ultimo enunciava come i movimenti di brigantaggio fossero legati alla criminalità ed a un pericolo di instabilità politica enunciato poi come Roma ne fosse garante finanziatore. Federico II, re di Napoli in esilio criticò sperimenti di Cassoli affermando che le pressioni dei movimenti per la libertà del suo popolo definite brigantaggio avveniano nel più barbarico spargimento di sangue e nella più indifferenza estera. Definiva incoerente la parte del presidente del Consiglio Italiano definiva i briganti criminali apolitici e poi definirli in combutta con Roma. Nel discorso conclude che la volontà del Medione non è quella di diventare una provincia del Piemonte però negli anni a seguire anche il governo in esilio abbandonò la guerra e i briganti rimasero soli a combattere. L'infanzia è un fruco medico Michelina cresciuta povera, senza soldi e a lavoro duro però una considerazione ce l'aveva, la famiglia ma anche la si spense la prima fu la madre che dopo tanta fatica dopo dieci parti di cui due morti prematuri e dopo tanto lavoro morì e la lasciò la casa al lavoro delle tre sorelle lei più di due sorelle maggiori Maria e Tommasina quelli due poi quando aveva 16 anni Michelina se ne andarono davanti a tuo marito e quindi la lasciarono da sola a badare i cinque fratelli al padre quindi nel 58 Michelina doveva cucinare pulire casa e badare in generale a tutto ciò che una donna doveva fare all'epoca appunto poi lavori donneschi come si chiamavano all'epoca e in quell'anno andò via poi il padre con quell'inverno freddo siamo di tubercolosi la marte dei poveri e quindi lei maserà veramente sola con i suoi fratelli dicevano di sposarsi Maria non voleva sposarsi non voleva passare per una prigione all'altra se doveva fare la serva almeno l'aveva fatto per la famiglia e non per un marito questo danno ha anche dovuto a fatto che lei non usciera dai figli rispetto a sorella Tommasina che ne diede due lei e la sorella Maria è andata non in mancata veniva detto non importava quanti sacrileggi quanti malocchi venissero curati tutto ciò rimanevano infertili e ciò era una grande onta per la famiglia quindi lei sotto pressione della famiglia occupa un lavoro migliore nei campi a Pasquale Il Gregge decide di sposare nel 60 Rocco Zenga un marito che gli è nella casa migliore però si è molto in povertà e gli trasferì fin quando anch'esso morì l'anno dopo anche sopra la malattia possiamo vedere come la vita di Michelina seguirono morte povertà una morte che non ci dove stupire in quanto sappiamo bene che ai tempi la medicina e a quella casalinga le malattie la povertà e il forte lavoro non permetteranno una lunga vita quindi la vita di Michelina si può vedere come una serie di fallimenti dovute alla sua polizia sociale è bene per questo che lei frustrata triste solitaria cercare un riscatto futuro nel brigantaggio il nuovo governo italiano introdusse una forte della militare che obbligava più di 40.000 soldati del sud a rientrare nell'esercito italiano ciò era troppo duro da sostenere per le famiglie del sud famiglie povere che hanno bisogno di uomini nella terra di lavoratori di braccia per il lavoro ciò insieme a promesse non mantenute allo sfrettamento della terra e a un governo dittatoriale del meridione il riscatto in rivolte in movimenti appunto di brigantaggio lo suo fratello di Michelina Domenico si unì ai briganti insieme alla banda di Guerra Francesco Guerra un ex soldato che combattò nel Volturno sotto la corona brembonica e ciò fu fedele appunto alla corona lui continuò a combattere lui compresando di Michelina appunto creò una banda e adesso entrò il fratello che appunto lasciò la casa lasciando Michelina con le sorelle e i fratelli purtroppo gli anni tra il 62 e il 63 furono molto due per Michelina in quanto morì sia sorella Maria la sua più fidata compagna una sorta di madre secondaria da quando era morta la sua madre naturale e appunto come detto prima morì anche il padre lasciando appunto sola del marito che anche esso come detto prima morì quella sequenza di morti in pochissimi anni questa solitudine questa rabbia che li portava dentro la portò a ricercare di diventare più grandessa sotto la fila del del gruppo del fratello quindi del gruppo di guerra una notte quando si incontrarono il fratello Michelina lei chiese a lui di poter entrare nella banda lui inizialmente rifiutò dicendo che una donna nella banda non potrebbe entrare ma alla fine quella convinse convinse addirittura appunto il cavolo della banda guerra convincendolo di poter di poter essere capace e come dimostriamo sarà così un giorno domenico andò a cadere a sorella Tommasina e con loro via anche Michelina quest'ultima chiese al fratello di poter entrare nella banda Domenico la scorreggiò bacione la fece demordere Michelina aveva fame di libertà di vendetta e di riscatto ma soprattutto di vita una vera vita guerra fu molto reticente nel fare entrare nella banda una donna ma dovete credersi la grinta il carisma l'astuzia l'agilità il coraggio la determinazione che possedeva Michelina e andotti uniche che la reso col passare del tempo la seconda di guerra e successivamente l'amante il suo primo assalto fu a San Castrese nel luglio del 63 alla cara di Antonio Cordecchia quest'ultimo era il classico obiettivo della banda unico valore che sposando l'unità e tenendo lo stato napoletano salì sul caro dei vincitori lasciando il suo popolo nella povertà sotto l'unità di Michelina la banda si vestì come le guardie sabaude e grazie a ciò la ragazza andò a buon fine alla fine dell'assalto dispersero le vie del borgo parte del bottino e si dispersero lo stesso giorno seminati i soldi di sabaudi si rifugiano dal prato locale per comprendere la storia di Michelina dobbiamo parlare delle testimonianze per esempio quella di Giuseppe Decina del 1865 cioè di uno dei rapiti della banda di guerra e di altre che ci raccontano non solo il funzionamento di quest'ultima ma anche la morale i pensieri e le motivazioni dei briganti nella deposizione effettuata dopo l'apimento da Giuseppe quest'ultimo ci racconta che il suo apimento avvenne con un pedinamento ed un assalto congiunto di due bande quella del brigante fuoco e quella di guerra infatti spesso le bande si univano si separavano a seconda della necessità e degli obiettivi dopo aver camminato per ore finì in una caverna il coro dei briganti in essa barili per bere un pentolone per mangiare e dei paglierici per dormire ci racconta di un freddo pungente di un grande supporto locale tra i cittadini e i predati per l'approvvigionamento di cibo alcolici ci racconta di come i briganti ci potessero anche essere prostitute l'unica donna a non essere nella banda è la michelina altre testimonianze raccontano che all'interno della banda vi ci fosse un codice d'onore non si toccavano bambini e donne rapimenti uccisioni rapine venivano effettuati solo a persone benestanti che erano tali grazie allo sfruttamento dei cittadini e dalla collusione col governo italiano in caso di innocenti coinvolti si cercava di sparmiarli in caso di cattura di un sospettato si eseguiva internamente alla banda un processo anche con testimoni dopo una razia veniva sparsa parte della ricchezza nel paese e poi si avveniva la dispersione della banda per poi incontrarsi in un luogo prescelto la conoscenza cristallina di quei luoghi giocava a loro favore in fuga ed imboscate via il supporto non solo locale ma anche la parte di uomo e di ex nobili fedeli alla monarchia napoletana come il duca d'Alessandro principale fautore delle volte molisane il generale Cadorna definisce così briganti leggerissimi nella persona ce lì nel piomba improvvisi ce lì negli inseguimenti nelle fughe esperti con armi e di conoscenza dei luoghi da non sottolotare il brigantaggio quindi è una realtà ben più complessa di come spesso narrata venivano attuate istruzioni di case archivi ma anche furti sequesti estorsioni uccisioni ed altri atti di guerriglia danni dello Stato della nobiltà dei traditori delle spie e dei sfiduatori della glia bronda tenente il 15 agosto del 63 lo Stato corse dei ripari e per stroncare il fenomeno del brigantaggio una volta per tutte introdusse la legge PICA quest'ultima sospendeva l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e impose come la loro detta mezzo straordinario e temporaneo la repressione delle libertà per i cittadini al pascolo gli sequestri le perquisizioni di beni sta permesso gli imprigionamenti le torture e uccisioni sommarie attuate dal tribunale militare e molte altre società che sembrano trattare il meridione più come una colonia che una parte d'Italia sequestri appresagli limitazioni di spostamenti d'incontro venivano attuati ad ogni persona sospettata del brigantaggio o di supporto adesso non si faceva distinzione fra contadini briganti politici banditi e assassini chiunque fossero legati al mondo del brigantaggio passavano le forche dell'esercito piemontese 14.000 furono arrestati più di 2.000 uccisi tra uomini donne e bambini il ministro Menebrea e il generale Cadorna misero a capo del comando generale delle truppe per la repressione del brigantaggio il generale Palavicini la sua salita al potere nell'esercito di controllo del meridione permise una prestigente morsa della milizia sulle istituzioni di aumentare la propaganda anti-brigantaggio e di aumentare la stretta sulle bande il consenso tra i cittadini per i briganti diminuiva e aumentavano territori di spie Michele Berlingheri un unico possidente locale che supportò i briganti sotto un minaccio sabauda si unì a questi ultimi che in cambio di collaborazione li promisero la salvezza e non comprensio in denaro alla dire Michelina però sarà Giovanni di Cesare forse un suo parente il quale indico la sua posizione al capo la rocca sottoposto di Palavicini nella zona di Mignano così con qualche taglio venne portato l'avvenimento nell'esercito con i sabaudi e alle dieci di sera pioveva dirotto ed un violentissimo temporale accompagnato da forte vento da tuoni e da lampi favoriva maggiormente l'operazione da qualche tempo li stava perlustrando quei luoghi accidentati e malagevoli perché coperti da burroni stare sterrate e altri incagli alla guida venne in mente di avvicinarsi a tutte le querce che gli sapeva alquanto incavate entro le quali poterà nascondersi una persona si discorse e appoggiate una di quelle querce due briganti il capitano Cazzaniga con un salto fu addosso a uno dei due e afferrandone uno per il collo lo stiammazzò al suolo e con lui venne la lotta corpo a corpo finché venne data un soldato di appuntare il fucile contro il brigante e di renderlo cadavere quel brigante fu subito riconosciuto per il capobanda Francesco Guerra il compagno tentò di fuggire ma una fucileata sparata lì dietro dal medico di battaglione lo feriva poi proprio agli altri soldati freddato esaminando il corpo fu riconosciuto per donna e quindi per Michelina di Cedere deruda di guerra con loro vennero uccisi anche i briganti orsi e ciccone i briganti vennero denudati fotografati ed esposti con il monito per la popolazione nella piazza di Mignano Michelina sfigurata tumefatta forse violentata mentre moriva o dopo la morte fu consegnata alla storia con i denti di grignanti in una smorfia di dolore che racconta tutto della sua vita Michelina donna anche seppure i genitori il marito la sorella abbandonata da tutti anche involontariamente dal figlio solo quella non la lasciò ma lo seguì nella morte il mio progetto è consistito nel fare le interviste alla popolazione di Caspo e di Mignano in essa possiamo vedere una titubanza una voglia di scoperta e anche un'ignoanza sull'argomento dovuta all'insabbiamento che c'è stato sulla figura negli ultimi secoli nell'ultimo secolo negli ultimi 150 anni di questa figura appunto è rimasto poco però negli ultimi 20 anni grazie al progetto di molte persone esempio del Museo Historicus risposta la riscoperta di questa figura del brigantaggio come presto vedremo durante l'esposizione del museo e durante la figura dei Maria come potremmo vedere l'intervista da principale in altre interviste che non vedremo per motivi di privacy si mostra la titubanza nell'argomento oppure mancanza di conoscenza vista come una figura poco conosciuta quasi misteriosa mistica di cui sarà solamente che è una brigante e quindi ha poco di buono in ciò vediamo che non c'è non solamente la mancanza di conoscenza ma c'è anche una visione negativa del brigantaggio vista come criminali mafiosi ciò vedremo come questa visione si sconterà con la visione più studiata da queste figure negli ultimi 20 anni tramite appunto musei e vocazioni buongiorno intanto voglio ringraziare per essere mia ospitata a questo bellissimo museo è stato un lavoro veramente fantastico e voglio ringraziare per l'ospitalità e per tutto quello che avete fatto per Mignano per Caspoli e per divulgare tutte le storie e le cose che sono successe in questa terra e le voglio chiedere per le Michelina chi è? Qual è il significato il messaggio e il simbolo che è Michelina per la comunità di Mignano e di Caspoli? Mio personalmente inizio dal mio personalmente è un'eroina colei che ha dato tutto per tutto il suo territorio perché il suo territorio ne aveva così poco parlo della sua proprietà di beni però non ha pensato solo al suo piccolo fazzoletto di terra ma ha pensato anche al suo futuro al futuro dei figli al futuro che ha pensato anche al mio di futuro caso perché questo dico questo perché se non ci fossero state queste persone molti dicono che sono negativi ma non sono da confondere non facciamo tutto di un erbe a un fascio però queste persone come Michelina non sono dei cattivi personaggi o delle persone che hanno portato arrecato del male al territorio ma l'hanno voluto salvaguardare portarlo avanti custodirlo fino alla morte parlando poi del contesto molte persone di questo territorio alcuni ne parlano bene alcuni sono proprio ignari perché non c'è stato il periodo che è stato divulgato un pensiero anche nella trasmissione del sesso della famiglia ci sono le persone che facevano parte della famiglia dei briganti come Pace Verdone lo stesso Fuoco Ciccioguerra non se ne parla perché è come se fosse una vergogna nel percorso nostro di ricerche abbiamo trovato persone che avendo lo stesso cognome non ne hanno proprio voluto parlare in quanto ci hanno detto di tacere tacere perché poteva dopo 150 anni portare arreccare qualcosa di negativo al territorio ma soprattutto alle loro famiglie cosa che a mio avviso non è che possono portare dopo tanti anni noi stiamo fermando il pezzo di storia stiamo fermando quel pezzo di amore per la propria terra e la dobbiamo divulgare ai nostri ragazzi ai nostri giovani il trampolino di lancio è Michelina ieri io oggi tu domani tu dopo gli altri dopo domani perché tu possa portare avanti questo ricordo il ricordo positivo di amare le proprie radici e se come dico sempre il terreno la terra non ha confini la natura non ha confini madre natura non ci insegna ad avere dei confini madre natura la pianta se nasce sul confine tra virgolette il confine che ha messo l'uomo non dice lì non è il mio territorio torno indietro la pianta continua a ramificare a ramificare appunto nella terra che il signore gli ha dato e noi dovremmo essere questo la libertà di andare avanti di poter portare queste radici che stesso della natura ci porta la pianta a ramificare altrove e non passare messaggio negativo perché anche io ho i miei messaggi negativi col mio modo di fare per chi mi guarda con un occhio diverso con lei quando dice che le persone sono omertose nel parlarne in quanto intervistando persone anche del luogo hanno o appunto non conscienzione dell'argomento oppure attitubanti nel parlarne in quanti moriti ciò secondo lei è dovuto al fatto che c'è poca vulgazione ce n'è stata poca oppure c'è stato proprio un obbligo della memoria da parte del governo italiano nel passato io direi a parte del governo italiano penso che si parta proprio dall'interno della famiglia perché qui in questo paese c'erano appunto diversi briganti e questi briganti vivevano qui di conseguenza i figli i nipoti hanno cercato di non trasmettere alle nuove generazioni parlo di nuove generazioni le persone di 70 80 anni di allora che c'è allora generazioni nuove ma ora sono le persone più anziane e molti non ne sanno niente di questa cosa perché in famiglia non se ne parlava diciamo un po' una sorta di omertà perché ci si vergognava di avere un genitore un fratello una sorella un qualcuno della famiglia che faceva parte dei briganti anche perché sono stati messi in cattiva luce molti non hanno capito che stavano proteggendo il proprio territorio alcuni hanno preso la parte brutta dei briganti si ammazzava inutilmente ma non è che dicendo questo sto dando la che hanno fatto bene ad ammazzare loro hanno semplicemente messo da parte il loro territorio lo hanno mi sfugge la parola lo hanno voluto solamente proteggere perché era il loro territorio lo volevano salvaguardare dagli invasori quel poco che avevano anzi niente dice già non abbiamo niente cerchiamo di non farci prendere altro devo dire che grazie a lei che si occupa di questi lavori si occupa di revocazioni si occupa di preservare la memoria di Mignano di Caspoli tra il suo museo che ricordi che ho notato che appunto in questo momento stanno raffiorendo nei persone a cui interessa perché ho visto che finalmente grazie soprattutto ai vostri lavori il luogo di Michelina sta ritornando in auge quindi dall'oblio come una fenice tratta fuori dai ceneri è riuscita a risorgere e quindi in questo secondo me il governo italiano non è riuscito a vincere è riuscito a vincere Michelina in questo in questo è veramente contento di ciò e ha vinto Michelina ma ha vinto il territorio e ha vinto la verità la verità la verità che molte verità sono ancora nascoste e c'era un piccolo anetodo che una mia zia era la nipote di Alessandro Pace mi raccontava nei piccoli dettagli quando eravamo insieme da sole e lei mi diceva mio padre e il mio zio hanno litigato perché per una stupidaggine mio padre beveva e a molte volte vedeva delle cose che non erano veritiere e che faceva se la prendeva con mio fratello diceva tua mamma è una di quelle una drude perché se ne va in montagna a portarla a mangiare va insieme briganti e il fratello che non aveva bevuto e sapeva che la mamma non era un brigante non era la mantenuta la druda di un brigante ma era la mantengola del suo fratello e lei saliva in montagna a portargli il pranzo la cena quando poteva ovviamente e questo fratello che a volte beveva il figlio gli diceva che stava facendo qualcosa di male ma lei stava aiutando a vivere la sopravvivenza a coloro che stavano salvaguardando il territorio la ringrazio è una testimonianza bellissima soprattutto la ringrazio per il lavoro che ogni giorno fa per questa comunità grazie mille per l'intervista noi per noi perché noi e ieri oggi e domani onorare ricordare per non dimenticare questo è il nostro motto e sarà sempre questo finché ci sono generazioni nuove questo caso nuove che portano avanti la tradizione la passione e quello che è stato realmente che non si racconta mai la vita giornaliera delle persone mamma padre nipoti soprattutto gli ammalati gli anziani che vivevano una situazione poco agibile e dovevano veramente lottare per andare avanti con le unghie con i denti grazie mille è un tempo bellissimo e concordamente con lei speriamo solamente che quelle cose che non capitano mai e che in un futuro Michelina possa si ricordare tutta la comunità certo lei già che ne stiamo parlando lei continua a vivere tutte le persone che sono passate su questa terra muoiono realmente quando non se ne parla più e si deve continuare perché la loro vita continui e continui nei secoli ci si potrebbe chiedere quale sia stata la più grande violenza perpetuata dal nonato governo italiano la Michelina a tutta la tua comunità e in generale meridione in quel periodo che viene ricordato nei libri di storia come questione meridionale a parer mio il primario sopruso che è stato subito è la condanna all'oblio all'insebbiatura e tutto ciò che è stato fatto fino a oggi si è provato ad eliminare delle libri di storia le figure come Michelina come guerra coloro che si opposerà al governo si cercò di cancellare tutto il dissenso della protesta a quella civile che aveva nel mezzogiorno dell'epoca si cercò di omologare l'idea di unificazione d'Italia nel popolo facendola passare come una richiesta unanime in tutta la penisola questo è il ricordo di quello che combatté per i propri valori con le unghie e con i denti si aggrappò alla propria voglia di libertà alla voglia di vivere una vita che non fosse quella di prescritta da una società che lo obbligava a spaccarsi la schiena nella tifonia di un signore della corona sabauda che l'aveva costretta a vivere una vita misera probabilmente amore giovane di una quale detta malattia dei poveri la diventa l'ennesimo nome anonimo di un ecologio parrocchiale lei lottò una battaglia probabilmente vinta ma non si arrese il cantante partenopeo Bennato le dico in ricordo di Michelina e in ricordo di tutti i martiri della questione medionale la canzone Il sorriso di Michela una canzone malinconica che sintetizza la vita di Michela ma che nella melodia presenta anche noti di speranza che ben rappresenta nel suo volere in vivere il suo volere continuare a battersi fino alla morte e alla libertà è meglio un solo giorno visto libero che la vita in catena